Cari telespedatori, bentornati in diretta per una nuova puntata di Primo Cittadino. Questa sera è tornato negli studi di FANU TV il sindaco di Pesaro Matteo Ricci. Buonasera sindaco. Buonasera a tutti. Abbiamo tanti argomenti da trattare, ma vado subito a ricordare i numeri di riferimento. 0721 86 14 33 per chiamare in diretta e quindi parlare con il sindaco Matteo Ricci oppure 338 49 68 250 per mandare messaggi anche con Whatsapp. Sindaco, io direi di partire dalla seduta straordinaria del Consiglio regionale dedicata al Covid. Acquarogli ha precisato che le Marche ad oggi in zona gialla non passeranno in quella arancione. Dobbiamo dire anche che la provincia di Pesaro Urbino è quella che ad oggi registra meno contagi. 8 oggi nella nostra provincia, quindi pochi rispetto alle altre province. Siamo stati molto bravi, cominciamo ad essere prudenti o forse siamo immunizzati perché abbiamo avuto più casi nella scorsa primavera? Che cosa ne pensa? Mi piacerebbe dire che siamo stati più bravi, però credo che non sia così. Sì, nel senso che in generale le persone si stanno comportando in maniera responsabile, anche se ogni tanto non capisco perché se il sabato pomeriggio ad esempio debbano andare tutti in via Branca o la domenica pomeriggio tutti in via Trieste, sapendo che ci sono norme che comunque ti chiedono di stare a distanza l'uno dall'altro. Credo che il dato vero sia che non siamo immunizzati, sarebbe un errore grave dirlo, ma che in tanti di noi lo hanno avuto. Io stesso l'ho avuto e non me ne sono accorto, mi sono accorto quando ho fatto il sierologico. E tanti come me l'hanno avuto e pare ad oggi che coloro che lo hanno avuto in primavera nessuno risulta che si sia riammalato. Questo che cosa significa? Significa che, se penso alla città di Pesaro, su una platea di 100.000 persone, se 20.000 persone lo hanno già avuto e per alcuni mesi gli anticorpi resistono, le persone che lo possono prendere sono gli altri 80.000, che non vuol dire che quindi non lo possano prendere o che c'è l'immunità di gregge, come qualcuno in maniera errata dice. Significa che abbiamo una platea di persone un po' più ristretta rispetto al resto delle marche che può contagiarci. È esattamente il contrario di quello che sta avvenendo nelle altre province, che a marzo e aprile sono state appena sfiorate dal Covid e che oggi invece hanno dei numeri molto più alti. Però complessivamente la media delle marche è ancora una media, diciamo, sotto controllo. È chiaro che adesso dobbiamo essere bravi per rimanere in zona gialla, perché come abbiamo visto già stasera altre cinque regioni passano da zona gialla a zona arancione. Oggi ormai sappiamo bene quali sono i criteri dentro i quali muoverci, sono criteri statistici, scientifici e quindi non è discrezionale la scelta. Se uno cambia, sballa i valori, l'RT, il numero dei pazienti ricoverati, il numero delle terapie intensive rispetto alle potenzialità che ci sono, il numero di positivi rapportati alla popolazione, gradualmente si passa in una zona dove le restrizioni sono molto più stringenti. Quindi dobbiamo essere molto bravi, molto responsabili adesso per mantenere questa posizione che è sicuramente di grande allerta, con la guardia altissima, ma che ci consente di avere meno restrizioni rispetto ad altre parti del Paese. Ciao Matteo. Dopo una domenica di assembramenti fuori dalle righe, penso che siano opportuni maggiori controlli, perché comunque tutti ne paghiamo e ne pagheremo le conseguenze. Ma i controlli, in verità, sabato e domenica avevamo cinque pattuglie in giro a fare i controlli, e ovviamente i controlli vengono fatti laddove le persone si addensano maggiormente, e quindi i controlli ci sono. È evidente che il controllo sulla mascherina è un controllo più facile da fare, il controllo su persone che stanno troppo vicine è un controllo più difficile, perché spesso e volentieri quelle persone, come vedono un vigile o un poliziotto, poi si allontanano. Abbiamo già chiuso un paio di locali proprio per assembramenti, abbiamo visto che sono cambiate le abitudini, per cui adesso l'affollamento per l'aperitivo ce l'abbiamo a mezzogiorno, molti sabato e domenica, soprattutto i giovani, vanno a pranzo, e poi successivamente il pranzo diventa, come dire, un pranzo, un dopo pranzo lungo fino alle 6. Quindi è evidente che soprattutto sui giovani c'è una difficoltà ad entrare nella dinamica che questo non è il momento di stare insieme, non è il momento di fare festa, non è il momento di fare quello che si faceva prima del Covid, o anche semplicemente con un po' più di tranquillità quest'estate. Quindi stiamo ragionando col prefetto che cosa fare, io sono tendenzialmente contrario a chiudere degli spazi di città, anche perché non voglio danneggiare ulteriormente il settore del commercio, il settore dei bar, dei ristoranti, quindi dobbiamo essere molto equilibrati, bisogna trovare sempre un punto di equilibrio tra l'emergenza sanitaria e l'emergenza economica, dando sempre ovviamente priorità all'emergenza sanitaria. Giovedì avremo un ulteriore punto con il prefetto, al momento però non ho pensato di chiudere luoghi specifici, perché ho paura che poi l'effetto possa essere addirittura peggiore, perché poi magari si concentrano più persone in un altro luogo, e quindi ho paura che non sia lo strumento adeguato per evitare gli assempramenti. Lo strumento adeguato è sempre la responsabilità personale, quindi invito di nuovo tutti i pesaresi, tutti i cittadini della provincia di Pesururbino, delle Marche, a rispettare le regole, a non andare nei posti dove c'è gente, e a girare all'area dove c'è la gente, a stare sparse, a mettere la mascherina, a fare tutte quelle cose che ormai sappiamo a memoria. E se riusciremo ad essere responsabili, forse contribuiremo a non far diventare le Marche una regione arancione, e quindi con ulteriori restrizioni. E le chiedono anche quando potranno essere frequentati di nuovi circoli, a noi tanto cari antidepressivi, ci scrive un telespettatore, ecco, forse anche in questi luoghi al momento si potrebbero creare assembramenti, ed è proprio quello che si deve evitare. Sì, ci sono sicuramente delle contraddizioni, perché i bar sono aperti, i circoli no, perché il circolo è considerato un'attività ricreativa, quindi sicuramente ci sono degli elementi contraddittori nel DPCM. Però si immagina quanto a noi dispiace, ad esempio, sui circoli degli anziani, sui centri sociali degli anziani. Sono per noi un punto di forza, un elemento che portiamo come grande orgoglio in giro per l'Italia, la nostra rete dei centri contro la solitudine, per la socialità dei nostri anziani. Però sappiamo che in questo momento gli anziani sono quelli che rischiano di più, anzi sono quelli che dobbiamo proteggere maggiormente. Per fortuna anche il Ministro Lamorgese ha chiarito, come dire, ai nipoti di non andare dai nonni troppo spesso se si va di stare a distanza, di stare con la mascherina, perché non dimentichiamoci mai che il Covid colpisce tutti, ma è ancora più pericoloso nelle fasce più anziane e nei malati. Quelli li dobbiamo proteggere, quindi deve scattare in ognuno di noi un senso di protezione, soprattutto nelle fasce di persone che rischiano di più. Sina, mentre la Regione sta decidendo se aprire o meno un terzo modulo al Covid Hospital, quindi è Civitanova Marche, per la nostra provincia sono stati individuati due Covid Hotel per ospitare le persone in isolamento fiduciario oppure quelle che non hanno la necessità di un ricovero. A Pesaro ce n'è uno, però pare che il titolare voglia rimanere al momento nell'anonimato. Come funzionerà? Lei ha novità su questo? No, non so neanche io qual è stato poi, se è stato individuato e quale hotel sia stato individuato appunto, però è evidente, l'abbiamo visto ad esempio, uno dei primi comuni che ha fatto il Covid Hotel è stato Senigallia durante la pandemia, è un hotel che sostanzialmente evita che le persone facciano la quarantena esclusivamente a casa o evita ricoveri impropri, cioè se le persone stanno bene o hanno sintomi molto lievi è inutile tenerle in ospedale, possono stare anche in una struttura come un hotel, l'importante è che siano ovviamente isolate l'una dall'altra e che possano passare lì il periodo di quarantena o il periodo diciamo di malattia lieve. Ecco, ci chiedono anche poi chi farà i controlli. Quindi è un ulteriore filtro rispetto agli ospedali, perché è evidente che, qual è il timore? Il timore è che crescano talmente tanti numeri da far collassare il sistema sanitario, sia in termini di terapia intensive ma soprattutto in questo caso in termini di ricoveri, perché in terapia intensiva vanno un po' meno persone rispetto al passato perché le cure oggi funzionano un po' meglio. A marzo non si sapeva come curarli e molti arrivavano in ritardo quando erano già uno stato avanzato e quindi moltissimi finivano direttamente in terapia intensiva. Questa volta invece c'è una mole di ricoveri molto forte e una capacità diciamo di fare filtro rispetto alle terapie intensive che a marzo non c'era. Se vogliamo evitare di riempire i nostri ospedali e quindi di metterli in grande crisi con il ricoveri abbiamo bisogno di tenere il più possibile le persone a casa a fare la quarantena o nel caso in cui abbiano dei sintomi che comunque vanno seguiti maggiormente c'è bisogno di una struttura di filtro e questo del Covid Hotel sostanzialmente è una struttura di filtro o in entrata ma soprattutto in uscita dall'ospedale perché quella è la funzione principale cioè uscendo dall'ospedale prima di tornare a casa e prima della fine della quarantena un periodo di decantazione e di verifica nei Covid Hotel. Quindi sono strutture molto importanti e appena sapremo qual è la struttura di peso ovviamente faremo la nostra parte per ciò che riguarda i controlli immagino che la Polizia Municipale dovrà in qualche modo vigilare l'Asur stessa e quindi sono dei protocolli da seguire noi li seguiremo alla lettera. Ha parlato prima di situazione anche nelle strutture ospedaliere lei proprio la scorsa settimana ha fatto un sopralluogo dovremmo avere anche delle immagini su questo ci eravamo tornati sopra anche nel corso del nostro telegiornale Occhio alla Notizia e aveva fatto il punto con Asur e azienda ospedaliere a Marche Nord aveva ravvisato però un po' di stress La struttura è sotto stress come vedete ancora sono montate le tende fuori dal pronto soccorso perché in questo momento il pronto soccorso è gestito molto bene ma cominciano ad aumentare le persone che si recono al pronto soccorso i ricoveri e quindi ci sarà forse bisogno di riattivare anche la tenda esterna perché ovviamente noi al pronto soccorso non vanno solo quelli che sono malati di covid o che temiamo possano essere malati di covid al pronto soccorso vanno tutti quelli che hanno un problema quindi c'è un percorso pulito, un percorso sporco così lo chiamano un percorso covid, un percorso no covid e c'è una gestione del pronto soccorso molto complicata devo fare davvero i complimenti a tutti gli operatori c'è molto stress perché do dei dati i numeri basi di terapia intensiva a Pesaro e all'ospedale di Pesaro sono 12 fino a 10 giorni fa dei 12 in terapia intensiva 11 venivano dal sud delle Marche oggi su 12, 12 sono della nostra provincia il che vuol dire che anche da noi nonostante che i numeri sono bassi abbiamo ricominciato ad avere qualche paziente che va in terapia intensiva e c'è molto stress da parte della struttura perché noi ci rendiamo conto ognuno di noi siamo in una fase molto depressiva quindi la ricaduta è sempre peggio della caduta immaginatevi per quei medici, per quegli infermieri che hanno vissuto l'inferno per mesi e che hanno respirato per alcuni mesi soprattutto per il periodo estivo oggi rivedersi le stesse dinamiche di marzo ed aprile cioè un impatto psicologico sui medici e gli infermieri è devastante e quindi la struttura comincia ad andare sotto stress per cui stanno organizzando nuovi reparti covid per aumentare i posti di terapia intensiva e ovviamente senza creare troppi disguidi al resto della sanità perché noi non dimentichiamoci che in questo momento oltre al covid ci sono persone che purtroppo continuano ad avere gli infarti continuano ad avere purtroppo i tumori ad avere malattie gravi, ad avere il diabete e quindi abbiamo bisogno di riorganizzare l'ospedale senza che questo vada a discapito anche delle altre malattie importanti che vengono curate negli ospedali quindi è una fase molto delicata e come dire, se fino a 15-20 giorni fa la situazione era ancora abbastanza tranquilla adesso non è più tranquilla quindi l'ospedale è in una situazione sotto controllo però cominciano ad esserci elementi di grande stress non solo psicofisica da parte dei medici e degli infermieri ma anche di tenuta organizzativa della struttura Adesso il sindaco le chiedo un parere perché la Lega è tutta la maggioranza qui torniamo un attimo in Regione con una risoluzione di cui il primo firmatario il consigliere Luca Serfilippi ha richiesto un report quotidiano sui numeri dei contagiati per ogni comune delle Marche l'obiettivo è informare dettagliatamente i cittadini sull'andamento dell'epidemia con dati certi e ufficiali per contrastare la crescente diffusione di notizie non verificate secondo lei potrebbe creare allarmismi poi diffondere comune per comune questi dati o invece al contrario quindi favorire una corretta informazione è importante che non scatti la cazza al positivo non mi preoccupo per città come Pesaro perché la dottoressa Esposto che è bravissima a me e ai sindaci del distretto di Pesaro ci aggiorna ogni giorno adesso c'è l'ultimo dato di sabato quello di oggi non ce l'ho però ad esempio a sabato i positivi nella città di Pesaro sono 272 quindi noi abbiamo il numero dei positivi il numero dei positivi comune per comune è evidente che quando un comune è piccolo è chiaro che può scattare un po' la cazza al positivo quindi come dire dobbiamo tutelare un po' la privacy detto questo insomma sono tutti i numeri che girano che abbiamo che l'Asur ci fornisce quindi voi comunque li avete? noi li abbiamo se devono essere resi pubblici non so se può servire o non può servire a cosa può servire è chiaro che i numeri li devono avere le autorità sanitarie non è che li deve avere il mio vicino di casa l'importante è che i numeri li abbiano le autorità sanitarie che sono quelle che poi in contatto con il governo l'Istituto Superiore di Sanità decidono, definiscono i criteri e quindi danno i numeri e questi numeri diventano criteri per entrare in una zona piuttosto che in un'altra quindi più che renderlo pubblico ai cittadini che non capisco a che cosa serva penso che serva soprattutto avere un contatto diretto, costante, senza errori tra le strutture territoriali e la Regione e il Ministero della Salute quindi detto questo non vedo comunque il problema per i comuni più grandi magari qualche piccolo problema di privacy o di cazza al positivo ci può essere nei piccolissimi comuni Ha parlato all'inizio di questa diretta anche di una crisi economica molto importante in questi giorni, ormai da settimane si stanno susseguendo queste proteste l'ultima a Pesaro in Piazza del Popolo sabato scorso era presente anche lei ovviamente abbiamo trasmesso l'intervista poco fa nel corso del telegiornale dovremo avere anche delle immagini c'è chi protesta in modo pacifico e chi invece ad esempio come Umberto Carriera fa queste cene o aperitivi provocazioni è nato poi anche un botte risposta che ha coinvolto lei, Seri, Vittorio Sgarbi ha parlato in quest'ultimo caso di cattiva pubblicità oltre che di violazione della legge è così? Sì, sabato sono stato alla manifestazione dei ristoratori, delle palestre, dei locali è stata una manifestazione ovviamente molto partecipata ma civile di protesta ma anche di confronto così come deve essere in questo momento e come dicevo prima questo è un momento nel quale dobbiamo avere un grande equilibrio tra l'emergenza sanitaria e l'emergenza economica quindi quelle categorie non solo vanno ascoltate ma dobbiamo provare a tamponare la crisi che stanno vivendo tant'è che abbiamo ottenuto i ristori per quelle categorie più colpite e abbiamo chiesto come sindaci grande velocità da quello che ci risulta una parte di questi ristori stanno arrivando nei conti correnti altri speriamo che arrivino nei prossimi giorni un ministro si era impegnato affinché entro la metà di novembre diciamo coloro che avevano già fatto domanda maggio potessero avere le risorse che gli spettano e il decreto ristori bis stanze e ulteriori risorse a questo io credo non so come è andato oggi il consiglio regionale da questo punto di vista credo che la regione Marche debba aggiungere delle risorse in passato durante l'emergenza covid era stato fatto un progetto che si chiamava 210 erano stati stanziati 210 milioni per le attività che avevano subito il lockdown in quel caso tutte perché poi siamo stati tutti in lockdown in questo caso credo che se alle risorse stanziate dal governo si aggiungessero altre risorse stanziate dalla regione noi inviteremo quei ristoratori quei baristi quei gestori di locali quei gestori di palestre a reggere meglio questo periodo e quindi questo è l'atteggiamento che ho avuto abbiamo incontrato in questi giorni tutte le categorie anche quelle che non sono rappresentate dalle associazioni di categoria dopodiché abbiamo assistito a uno show continuo prima di Carriera e Basta poi di Carriera e Sgarbi che sinceramente ha stancato tutti ha stancato tutti perché è evidente che è solo una provocazione che è solo un modo per farsi a mio parere cattiva pubblicità perché io credo che in quei ristoranti a Pesaro non andrà più nessuno se conosco bene i pesaresi ma soprattutto forzando la legge non rispettando la legge non rispettando le regole facendo una cosa molto grave molto grave per la salute e molto grave anche nei confronti di una categoria che invece ha rispettato le regole la prima cosa che ho fatto sabato in piazza è stato ringraziare tutti coloro che c'erano per aver scelto di protestare pur stando dentro la legge a Pesaro la legge si rispetta non c'è macelleria sgarbi amici di sgarbi che reggano a Pesaro la legge si rispetta chi non rispetta la legge le forze dell'ordine la polizia municipale prendono i provvedimenti necessari e lo dico a maggior ragione in una città che ha avuto centinaia di morti migliaia di persone ammalate ai ristoriatori avevano messo delle candele quelle tipo cimiteri illumini a cimiteri per dimostrare come dire la difficoltà dei locali ho ricordato che oltre alle difficoltà dei locali noi abbiamo purtroppo dovuto piangere tanti morti e tanti morti ai quali non abbiamo potuto fare neanche il funerale è stata una delle cose più strazianti ricevere i messaggi le telefonate dei parenti che non potevano neanche fare il funerale salutare i propri cari allora dobbiamo tenere insieme queste due cose il compito di un sindaco è tenere insieme queste due cose con grande equilibrio questo è lo dicevo oggi il mio collaboratore questa è la fase è una fase nella quale serve grande equilibrio non voglio fare un paragone estremo passando da da Pesaro all'America ma non è un caso che abbia vinto Biden secondo me ok perché Biden è come dire in questo momento a mio parere risponde alle esigenze della popolazione serietà responsabilità equilibrio quindi non è un momento nel quale servono negli isterismi negli estremismi è un momento nel quale occorre come dire grande capacità di tenere i problemi in equilibrio sapendo la notizia di oggi che come dire questa non sarà il futuro all'infinito questo sarà un pezzo del nostro futuro presumibilmente riguarderà le prossime settimane i prossimi mesi l'autunno l'inverno e poi si aprirà una fase nuova quando arriverà il vaccino si aprirà una fase nuova quindi dobbiamo gestire con grande capacità questa fase di transizione dalla seconda ondata al vaccino e questo è il compito che abbiamo e io come tutti i sindaci cercherò di fare del mio meglio si parla della prossima primavera per il vaccino oggi c'è stata questa notizia di come dire che ha sconvolto anche i mercati perché l'aver saputo che in maniera ufficiale c'è un vaccino che dà dei risultati positivi al 90% è una notizia bellissima dopodiché è chiaro che noi stiamo parlando di una scoperta che dovrà essere validata e poi dovrà essere prodotta e poi dovrà essere distribuita e poi dovrà essere iniettata alle persone a partire da quelle più fragili quindi immagino i malati gli anziani coloro che lavorano nelle strutture sanitarie eccetera eccetera io spero come dire che ci possa essere anche un risultato un avvio anticipato della distribuzione del vaccino però non mi sembra oggi realistico pensare che tutto questo possa avvenire prima della primavera me lo auguro spero di essere smentito di essere smentito positivamente però noi dobbiamo prepararci a gestire questa fase da qui alla primavera io l'ho chiamata con una la strategia della fisarmonica ho usato questa metafora cioè la fisarmonica si apre e si chiude in questo momento siamo in una fase di chiusura graduale e poi se le cose andranno bene ci sarà una fase di riapertura graduale o poi magari di richiusura e i tre criteri che sono stati definiti dal governo la zona arancione la zona gialla la zona arancione la zona rossa vanno incontro a una richiesta che come sindaci io stesso mi sono sgolato per giorni dicendo dobbiamo uscire dalla dinamica del dpcm ogni due giorni un dpcm era diventata una cosa ridicola dobbiamo avere una programmazione oggi noi sappiamo che non per discrezionalità politica ma per indicatori scientifici sono 21 gli indicatori noi potremmo passare da una zona all'altra e il passaggio ad ogni zona prevede limitazione o allargamento delle possibilità di movimento e sappiamo che abbinato alle restrizioni servono i soldi servono risorse e quindi i vari decreti ristori si abbineranno alle restrizioni che ci saranno perché noi dobbiamo consentire a quelle attività di campare di stare in piedi perché altrimenti rischiano di non riaprire più quindi è una fase nella quale in questa dinamica di apertura e di chiusura servirà grande responsabilità e tante risorse e anche questo è un elemento di preoccupazione perché noi non dimentichiamoci che tutte le azioni che abbiamo fatto da marzo ad oggi il decreto di marzo il decreto di maggio il decreto di agosto i decreti ristoro sono quasi tutte risorse a debito e quindi noi stiamo continuando ad indebitare il nostro paese per gestire questa fase ed evitare che scoppi la rabbia sociale che venga disintegrata la coesione sociale quindi è molto complesso e al tempo stesso però abbiamo un 2021 che sarà una grande opportunità perché avremo le risorse del recovery plan quindi è una fase difficilissima ma è una fase transitoria verso un 2021 che io considero potrà essere un anno davvero di rinascita non sappiamo se dalla primavera se da qualche mese prima o da qualche mese dopo la primavera però diciamo il 2021 sarà sicuramente un anno di rinascita e sta a noi adesso a gestire nel miglior modo possibile questa fase limitando al minimo le vittime limitando al minimo il recovery limitando al minimo il dolore e questo sta a noi sta alla nostra responsabilità ci stanno arrivando davvero tanti messaggi però Sindaco vorrei intanto fare sentire a lei quello che pensano i piesaresi Angelica Panzieri è andata appunto a chiedere che cosa ne pensano i piesaresi su quanto accaduto in questi giorni state dalla parte del Sindaco oppure di Sgarbi e di Umberto Carriera sentite quindi secondo lei il Sindaco Ricci ha fatto bene a non accettare l'invito di Carriera ha fatto bene sicuro che ha fatto bene non poteva andare lì sarebbe bella non possiamo sentire i pareri così detti un po' alla Carlona e la gente quindi sono cento volte col Sindaco Ricci perché Sgarbi è un provocatore cioè va in giro senza mascherina poi io ho anche un altro parere che forse è una proposta che voglio fare al Sindaco di portarla a livello nazionale cioè non si potrebbe non so se è possibile istituire un contributo di solidarietà su tutti sui pensionati sui lavoratori sugli imprenditori cioè un contributo di solidarietà a me non mi costerebbe niente dare cent'euro duecent'euro voglio dire sono in pensione è un lavoratore chiaramente sempre rapportato ai redditi e così si aiutano le fasce più deboli io sono dalla parte del Sindaco perché adesso per carità hanno tutte le loro ragioni gli imprenditori e tutto però quella mi sembra proprio una carvenevalata la sua non la condivido la modalità non mi piace quella di Sgarbi è una provocazione che non ha portato a nulla Sgarbi lo conosciamo lui deve stare sempre sul palcoscenico e voglia gli applausi a voler guardare il così mi dico si fanno pubblicità insomma pur comprendendo il momento durissimo per i ristoratori così credo che ci sarebbero state altre strade altre modalità che non una provocazione così proprio a 360 gradi che nega una parte di realtà enorme che esiste ovvero una pandemia il mio pensiero personale è che alcuni c'è nel rispetto delle regole nel rispetto di tutte le normative i ristoratori hanno credo il diritto di poter lavorare anche di sera e per quanto riguarda la polemica che c'è stata magari un confronto poteva essere costruttivo però rispettando le regole le leggi i decreti attivi quindi diciamo andare allo scontro così diventa un po' anarchia sono d'accordo con il sindaco Ricci perché comunque sia se c'è questa legge se c'è questo dpcm non vedo perché non seguirlo poi tutti gli altri ristoratori sapevo fossero d'accordo con sentire il sindaco Ricci magari il comune e la provincia per cercare di risolvere le cose in maniera civile senza andare contro la legge e contro lo Stato quella di Sgarbi è stata un po' una provocazione completamente inutile secondo me purtroppo visto quello che è successo con la pandemia probabilmente Sgarbi voleva anche col suo gesto dire guardate ci sono tanti operatori che ersano alla canna del gas e praticamente con questi operatori del commercio agroalimentare ci lavorano i camerieri è tutto un indotto già che eravamo in crisi quando le cose andavano tra virgolette bene praticamente adesso c'è da soffrire è duro per tutti per gli amministratori per gli operatori economici e per la gente comuni il ristoratore sappiamo che è supportato da tante persone anche da altri ristoratori però le persone che abbiamo intervistato noi sindaco sono dalla sua parte ci dobbiamo fermare per qualche istante di pubblicità e poi torneremo in diretta per commentare questo video a tra poco cari telespettatori bentornati in diretta sindaco mi sta scrivendo anche Umberto Carriera dice che ci sta guardando e attende un confronto come mai poi ha declinato l'invito ha rifiutato perché mi confronto con chi rappresenta qualcuno lui rappresenta se stesso e mi sono confrontato con le associazioni di categoria e con gli altri ristoratori lui vuole solo un riconoscimento istituzionale che dopo le buffonate che ha fatto da me non avrà perché sarebbe come non riconoscere tutti gli altri se lui vuole continuare a farsi pubblicità valla da Sgarbi cercherà altri personaggi che gli daranno la sponda da me non avrà più dopo quello che ha fatto non avrà più neanche mezza sponda però anche quello di Sgarbi lei ha rifiutato sì perché insomma con Vittorio se dobbiamo incontrarci per parlare di cultura di arte di turismo del nostro territorio sempre le porte aperte se invece anche lui si vuole prestare a queste provocazioni io non ho tempo da perdere nessun sindaco ha tempo da perdere dietro le provocazioni soprattutto in un momento come questo il comune in che modo sta aiutando queste categorie ad esempio per chi effettua la consegna a domicilio avete reso gratuita la ZTL si questa è una piccolissima cosa però negli mesi scorsi come tutti i comuni siamo riusciti ad ottenere lo sgravio della TOSAP della tassa di occupazione di suolo pubblico e questo ha aiutato quest'estate ma in verità fino a qualche settimana fa ad avere molte più attività con tavoli all'aperto quindi recuperando posti seduti che ha consentito ai locali di lavorare l'estate tutto sommato per i locali non è andata male perché agosto abbiamo avuto anche turismo abbiamo avuto numeri simili a quelli dell'anno scorso e gli altri mesi che non c'è stato turismo però i pesaresi avevano talmente voglia di uscire eccetera che comunque i ristoranti e i bar durante l'estate non sono andati male hanno recuperato sicuramente una stagione nera perché sono stati mesi chiusi mesi primaverili fra l'altro da noi sono mesi nei quali i locali lavorano tantissimo lavoravano con i pesaresi con le persone della provincia con i torni sportivi che portavano a peso migliaia di persone quindi diciamo l'estate è servita a tamponare un po' i danni di un anno di un anno nero cercheremo di capire che cosa possiamo fare evidente che noi i comuni non hanno un bilancio per portare ristoro economico alle attività che vengono alla quale viene limitata l'apertura questo lo deve fare lo Stato lo devono fare le regioni così come è già successo a marzo lo devono rifare anche in questa volta poi se possiamo aggiungere qualcosa di nostro noi sicuramente lo aggiungiamo faccio un esempio questo va per il commercio per alcune attività del commercio giovedì si chiude la chiamata per i buoni spesa e i buoni i buoni per i l'abbiamo chiamati i bambini 014 e sono buoni che possono essere spesi solo nel comune di Pesaro nelle attività di Pesaro quindi questo è una piccola aiuta che noi diamo all'economia pesarese perché immettiamo un milione di euro in più nell'economia pesarese per i consumi dei pesaresi più in difficoltà o per i consumi dei bambini per spese legate alla propria crescita e alla propria formazione e sono state già tante anche le domande 1600 per il bonus bambini nel secondo caso invece bonus Pesaro 850 quindi persone che comunque hanno bisogno in verità sono molti di più sono già aumentate in questa giornata quindi pensiamo alla fine che insomma se non ci sono sorprese negli ultimi giorni di aver in qualche modo orientato bene i criteri e credo che le risorse saranno sufficienti per dare risposta a tutti questo è quello che speriamo perché nel caso in cui non dovessero bastare ci sono dei criteri ovviamente il reddito come primo elemento per coloro quindi prima coloro che hanno meno rispetto a coloro che hanno più e l'affitto se si paga meno l'affitto se si paga il mutuo prima casa rispetto per quello che riguarda i buoni spese quindi facciamo l'ipotesi che non dovessero bastare i soldi nel caso dei buoni spese prioritariamente verranno dati a coloro che stanno dentro i criteri di reddito ma che hanno pagano l'affitto o il mutuo prima casa nel caso in cui invece i bonus bambini non bastino per tutti verrà data priorità a coloro che hanno il reddito più basso io spero che questi criteri non doverli applicare perché spero come dire abbiamo previsto dei criteri che ci consentono di dare risposta a tutti coloro che faranno domanda Sindaco iniziamo con le tante segnalazioni ma abbiamo una telefonata per lei buonasera che c'è in linea ci sente buonasera buonasera sono il figlio dell'insegnante Maria Pierangeli dove il signor Matteo Ricci ha frequentato tutte le elementari Carnaroli no anche qui mi hai trovato Carnaroli mamma mia anche qui mi hai trovato è così famoso che purtroppo mi ha mandato il messaggio perché Matteo Ricci era fano io sono di Sant'Ippolito sono più fanese di te qual è la sua richiesta? se è possibile parlare veniamo al dunque la cosa più importante l'acquedotto romano di Muraglia dacci qualche raguaglio Matteo se sei così bravo io non sono Sgarli Sindaco sull'acquedotto oggi ho avuto la notizia dalla società autostrade finalmente che è stata segnata in via provvisoria alla gara per la realizzazione della strada quindi è stata scelta l'azienda la ditta e nel giro di mi dicono 45 giorni 45-60 giorni c'era la giudicazione definitiva il che vuol dire è che noi abbiamo la ditta che deve finalmente realizzare la strada prima che la ditta realizzi la strada il marchio multiservizi deve spostare un pezzo dell'acquedotto e quindi il fatto che adesso è stata definita la ditta la scelta la ditta e abbiamo una tempistica loro dicono febbraio l'ultima previsione di sostautostrade che ovviamente è cambiata negli anni di volta in volta ma siamo l'ultima comunicazione di sostautostrade che per febbraio loro sono pronti a iniziare il lavoro della strada se così è bisogna che il marchio multiservizi nel giro di due o tre mesi sposta l'acquedotto che deve spostare sono circa un milione e mezzo di lavori fino adesso hanno traccheggiato secondo me anche troppo in attesa della definizione della scelta dell'azienda da parte di sostautostrade che deve realizzare la strada quindi come dire con grande fatica oggi abbiamo avuto però una notizia positiva è un bel passo avanti perché grande fatica perché non solo quella è una strada che da tanto tempo si aspetta ma da quando è crollato il ponte di Genova il contenzioso tra società autostrade e il governo ha creato dei problemi infiniti per cui tutte le opere che società autostrada deve realizzare sono state bloccate adesso che è ripartita una trattativa e che pare messa da parte il tema della revoca della concessione tu cure quindi un contenzioso infinito che sarebbe scattato tra Stato e società autostrade le cose sono ripartite quindi io capisco la come dire la stanchezza anche dei cittadini che da tanti anni aspettano queste opere però io se come dire se crolla il ponte di Genova società autostrade non fa la manutenzione che deve fare o comunque si apre un contenzioso tra società autostrada e il governo come dire non potevo né prevederlo purtroppo non è una questione nelle mie mani adesso come dire si sono calmate le acque le cose sono ripartite la notizia di oggi è sicuramente una notizia importante quindi il nuovo cronoprogramma per la strada di Muraglia fatto comunicato oggi da società autostrade è che loro da febbraio sono pronti a partire con i lavori della strada perché è stata scelta provvisoriamente una ditta e verrà assegnata definitivamente nel giro di un paio di mesi in questi due mesi che di attesa dell'assegnazione definitiva Marche Multiservizi deve spostare quel pezzo di acquedotto che era previsto nella programmazione della strada Sindaco davvero tanti messaggi per cui per questo ultimo quarto d'ora venti minuti le chiedo un po' che risposta quindi allora quando parte l'interquartiere di Muraglia l'ospedale di Muraglia si farà più giusto per rimanere in zona? L'interquartiere di Muraglia ho già risposto l'ospedale di Muraglia si deve fare sarebbe davvero uno scandalo e una cosa gravissima se per motivi politici si bloccasse un progetto che è già stato avviato che è già stato validato dal Ministero della Salute per il quale la Regione ha già speso dei milioni ed sarebbe uno scandalo perché è vent'anni trent'anni che parliamo dell'esigenza di un nuovo ospedale trapeso e refano dopo anni infiniti di discussione si è deciso c'è un meccanismo c'è una ditta che ha proposto un project c'è una gara da fare chi ferma questo treno si prende una responsabilità chi prova a fermare questo treno si prende una responsabilità storica e noi di certo non staremo a vedere si batteremo fino all'ultimo finché l'ospedale venga fatto venga fatto nell'interesse dei cittadini della provincia di Pesaro Urbino perché fare un nuovo ospedale trapeso e refano significa rafforzare complessivamente la sanità di tutta la provincia io spero anche che magari con i soldi del MES si possa rafforzare la sanità territoriale del nostro entroterra e così come nel resto della regione ma questo non è in contrapposizione con l'ospedale di nuovo di Pesaro di muraglia trapeso e refano perché l'alternativa ad un ospedale di eccellenza sulla costa della nostra provincia è andare tutti ad Ancona o andare tutti a Bologna siccome noi non vogliamo andare né tutti a Bologna né tutti a Rimini né tutti a Ancona per le cose più gravi noi abbiamo bisogno di un ospedale di eccellenza nel nord delle Marche poi gli ospedali di rete l'ospedale territoriale di Urbino devono svolgere funzioni fondamentali io spero maggiori rispetto al passato ma dire no al nuovo ospedale di Pesaro significa dire cittadini della provincia di Pesaro Urbino oltre 300.000 persone adesso non so che una volta erano 350.000 adesso non ho più il dato diciamo circa 350.000 persone se avete delle cose gravi dovete andare ad Ancona o Bologna io penso che non ce lo possiamo permettere e dopo 30 anni di chiacchiere adesso bisogna andare avanti spero che la nuova giunta a Quaroli da questo punto di vista sia molto pragmatica e poco ideologica come mai le fontanelle di Pesaro sono in disuso al porto e al mare? non mi risulta però domattina le faccio controllare subito una delle cose più caratteristiche della città non mi risulta che siano in disuso però le faccio controllare soprattutto se non funziona parliamo di salute che è strettamente collegata anche all'igiene e alla città non pensa che sia necessario e decoroso che i cassonetti della spazzatura siano lavati frequentemente oggi sono in uno stato veramente indecoroso sì penso io sollecito continuamente la marca Multiservizi a fare ancora meglio dopodiché dobbiamo considerare che il servizio nel suo complesso è un buon servizio ma io ho una chat con gli operatori che seguono sia il verde quindi l'aspers che la raccolta dei rifiuti ed altro quindi la marca Multiservizi che ho titolato città svizzera nel senso che c'è anche la bandiera della svizzera nel senso che ho detto ai miei collaboratori che io non sarò mai non sono soddisfatto non sarò soddisfatto fino a che il nostro territorio non raggiunga un livello simile alla svizzera ovviamente un obiettivo irraggiungibile presumibilmente però dà l'idea del fatto che chiediamo sempre di più quindi sicuramente la marca Multiservizi gestisce bene nel nostro territorio tutto il settore dello smaltimento dei rifiuti però io voglio ancora di più voglio ancora di più e la sollecitazione che il cittadino ha fatto sulla pulizia dei cassonetti è giusta ha perfettamente ragione e anzi approfitterò di questa telefonata di questo messaggio per sollecitare un servizio ancora migliore domani mattina ne leggo due velocemente il ristoratore ha protestato con ragione chi non ha mai lavorato non sa che cosa voglia dire il sindaco come nostro referente deve ascoltare tutti e si ricordi della costituzione ancora abbiamo bisogno di sanità e di gente che sappia lavorare anche di professionisti si è parlato di carenza di personale in questo periodo quindi sicuramente può essere d'aiuto anche nella provincia di Pesero Urbino non pensa che andrebbe aumentato il contributo per la disabilità gravissima tutti a parlare di ristoro e commercianti ma nessuno che parla di disabili e di anziani allora io rispetto la costituzione a tal punto che faccio rispettare le regole ascolto tutti ma poi so anche come dire capire quando una protesta ha una finalità legittima quando una protesta è semplicemente pubblicità e provocazione quindi penso che abbiamo fatto già abbastanza pubblicità a Carriera e ai suoi locali secondo me cattiva pubblicità sinceramente non ne voglio più parlare perché credo che i pesaresi siano davvero stanchi di questa di questa continua provocazione mi sembra adesso quelli che come dire hanno avuto un riflettore addosso per un po' di giorni no? e pensavano chissà cosa succede adesso faccio la rivoluzione faccio chissà poi adesso che il riflettore si sta spegnendo capisce che gli rimane un pugno di mosche in mano e quindi deve cercare di nuovo di riaccendere il riflettore con me basta riflettori abbiamo dato e credo che i pesaresi sono davvero stanchi sui disabili anziani sui disabili anziani allora sicuramente noi abbiamo anche una condizione sociale nuova con il covid nuova perché purtroppo sono aumentate le disuguaglianze un po' in tutta la società e ci sono dei problemi sociali nuovi prima facciamo l'esempio degli anziani che non possono più andare al centro anziani e questo è stato un impoverimento dal punto di vista sociale pazzesco che come reagiranno gli anziani poi alla fine di questa storia che cosa rimarrà tante persone in questo momento secondo me stanno soffrendo lo vediamo in tutti i dati statistici basta parlare con qualsiasi medico problemi depressivi problemi di ansia problemi psicologici e a volte psichiatrici sui quali il covid ha influito molto negativamente così come il tema della disabilità il fatto che la disabilità grave magari siano limitati o si siano limitati per un po' di tempo la possibilità di andare ai centri centri diurni spesso e volentieri che erano anche un servizio di sollievo per le famiglie oltre che di crescita sociale per i disabili stessi è stato un elemento che è come dire ha ferito le famiglie del nostro territorio ha creato nuovi problemi quindi con l'assessore Mengucci con la giunta stiamo ragionando sul prossimo bilancio di previsione cercando di analizzare anche quali sono i nuovi bisogni e quale richieste sociali il covid ha suscitato cioè quali nuove richieste sociali ci sono in questo momento di difficoltà al quale provare ad andare in conto nel 2021 perché comunque questo covid ci ha cambiato profondamente ha creato dei nuovi problemi che prima magari non avevamo avevamo in maniera meno attenuata meno meno pesante ci ha scritto un altro ristoratore le fa i complimenti per come si è comportato sabato a Pesaro ma le chiede anche quando passerà questa brutta pandemia pensate di sistemare la parte di Levante sì assolutamente uno degli obiettivi che siamo posti perché oggi dicevo un altro mio collaboratore è difficile perché questo covid ti tiene bloccato al presente noi siamo costantemente bloccati al presente al dato giornaliero alla decisione che viene presa dal governo al rispetto del dpcm ed è giusto che sia così perché dobbiamo siamo dentro una fase di resistenza e dobbiamo gestire la fase di resistenza dopodiché però questo è il momento nel quale noi dobbiamo progettare non è facile ma questo è il momento nel quale dobbiamo provare a mettere la nostra testa sul futuro e uno degli obiettivi che ho dato alla mia struttura che sta lavorando con grande difficoltà perché abbiamo il 75% in smart working io ad esempio non sono un fautore dello smart working non mi convince lo smart working nel pubblico perché secondo me abbassa ulteriormente la produttività dei lavoratori dei dipendenti pubblici questa è la mia opinione nel privato magari funzionerà nel pubblico c'è un abbassamento quindi bisognerebbe trovare altre no in questo momento in questo momento è evidente che la 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 priorità è quella sanitaria e quindi meno spostamenti abbiamo e meglio è però io penso che io sono un sindaco che pretende un aumento di produttività da parte dei dipendenti pubblici non una diminuzione di produttività soprattutto in momenti di emergenza come questi non mi pare a occhio che lo smart working produca un aumento di produttività secondo me produce un calo notevole di produttività dei dipendenti pubblici e questo mi preoccupa perché noi siamo in una fase come dicevo dove dobbiamo progettare nel 2021 noi avremo la grande partita del recovery plan ai miei collaboratori ho detto dobbiamo mettere in campo 500 milioni di nuovi progetti che non sono già finanziati o previsti nel nostro piano delle opere 500 milioni di nuovi progetti per provare a prenderne almeno 100 200 se saremo bravi e quindi significa mettere in campo un nuovo programma di governo oltre quello che abbiamo cioè raddoppiare il programma di governo è una sfida che dobbiamo fare adesso perché se noi arriveremo impreparati al recovery plan senza progetti i soldi non li prendiamo non li prende l'Italia non li prende il comune di Pesaro o i comuni della provincia di Pesaro Urbino Sindaco abbiamo già due persone pronte al telefono che vogliono intervenire con lei e decine di messaggi ci dicono anche che non sono tanto contenti per l'ospedale unico alcuni telespettatori sentiamo chi c'è in linea buonasera sono Eschio Tredi buonasera la sentiamo un po' poco sì sono Eschio Tredi buonasera è un po' basso sì buonasera a lei ciao Matteo eccolo intanto grazie per quello che stai facendo per la città grazie grazie a te quello che volevo dirti segnalarti che quella scultura a vela in fondo di Adam Panizzetti io siccome sono il portolotto è completamente al buio con le bellissime vele con la bellissima scultura di notte non si vede quella rotatoria è completamente al buio andrebbe illuminata potete illuminare la vela con delle amici che escono dall'acqua per dare un risvolto migliore a quella scultura mi sembra un giusto suggerimento grazie Trebbi un giusto suggerimento grazie a proposito di marche multiservizi il biodigestore ma è sicuro? ci dicono così sul biodigestore ma è sicuro? spero spero perché allora che cos'è il biodigestore? noi come dire ci vantiamo di essere arrivati a pesero al 70% di raccolta differenziata e anche qui non mi accontento perché voglio che si vada molto oltre ma soprattutto dovremo essere bravi a migliorare la qualità che cosa facciamo noi? una delle cose che separiamo è l'umido l'umido portato in un biodigestore in un impianto di biodigestore chiamiamolo biodigestore potrebbe produrre senza essere bruciato attenzione perché non si brucia nulla potrebbe produrre gas metano quindi energia da immettere direttamente sulla rete il compost che rimane è fondamentale per l'agricoltura e quindi per le coltivazioni in maniera naturale e quindi stiamo parlando di economia circolare cioè un rifiuto invece di andare in dischiarica che diventa un costo e basta va al biodigestore diventa energia pulita attraverso il gas metano e compost per la nostra agricoltura questo che cosa comporta? minori costi e un abbassamento è stato fatto un calcolo di almeno un milione di euro sulle tariffe della Tari siamo in ritardo è una delle tante cose sulle quali nelle marche siamo in ritardo dobbiamo assolutamente farlo a mio parere si è discusso all'infinito e lo facciamo prima a Fano e poi lo facciamo a Canavaccio bisogna arrivare al dunque no è una cosa ecco queste sono le cose che davvero io fossi un cittadino mi arrabbierei perché quando c'è un balletto di una discussione infinita e non si decide mai è una cosa che per me è insopportabile poi capisco che non è semplice ma non brucia quindi non produce emissioni in atmosfera non puzza quindi non esistono le due preoccupazioni principali se uno dice biodigestore pensa subito oddio bruciano un inceneritore no non brucia puzza no non puzza l'unica cosa della quale occorre davvero tener conto è un po' di traffico perché comunque è calcolato che circa 20-30 cambiano al giorno vanno a quell'impianto quindi forse c'è ancora un po' di non corretta informazione non c'è informazione per nulla per nulla però scusi questo è molto importante quindi io ho detto anche di guardare nella città di Pesaro oltre nel comune di Pesaro c'è l'ipotesi di Vallefoglia nella piana di Talacchio a me va bene a Fano a Cannavaccio nella piana di Talacchio a Pesaro purché si faccia e si faccia in una zona industriale dove è facile arrivarci dove non ci sono problemi ulteriori di traffico per i cittadini il resto è solo tempo che stiamo continuando a perdere quindi prima si decide e meglio è sentiamo chi c'è il telefono per lei buonasera buonasera il sindaco è qua che l'ascolta prego va bene grazie sindaco niente c'è un problema da affrontare io sindaco Matteo sono ammalato c'è il problema degli ospedali sono ammalato in terminale c'è un tumore sto facendo la terapia per il tumore sono diabetico sono cardiopatico è un anno che non c'ho più la visita tutte non rimandate tutte sospese voi altri curate il covid per carità curatelo pure ma ci mandate il cimitero noi altri perché non ci guardate più nessuno io ho 72 anni Matteo ho ancora pago l'inps perché c'è un'attività per cosa pago che non c'ho assistenza nella situazione mia come mi trovo ditemi vogliate io Matteo st'altra settimana c'ho una visita per la patente pronto? si la sentiamo ecco in commissione devo avere ancora un certificato io al 20 vado giù senza niente la patente se non mi la diranno io cammino uguale signori ha perfettamente ragione ci sono tante persone che si stanno trovando in questa situazione se non mi danno non mi rispondo che non mi danno i documenti a me per portare quel giorno lì il 20 di novembre io con cosa vado? ha ragione sindaco che cosa risponde? intanto per la cosa specifica ti do il numero del mio ufficio 0721 387242 e questo vale anche per gli altri telespettatori che dovessero aver bisogno di parlare con il sindaco se domani mi chiami proviamo a seguirla nello specifico così spieghi meglio a me ai miei segretari ai miei collaboratori qual è il problema specifico e proviamo ad informarci perché insomma è una situazione difficile e grave dall'altro questo telespettatore non ho non ho capito il nome prima dalla telefonata probabilmente lo conosco anche dalla voce e mi pare di averlo riconosciuto dimostra quello che dicevo prima cioè di come la sanità deve combattere il covid senza lasciare indietro coloro che hanno altre malattie cioè in questo caso stiamo parlando di malattie gravi perché insomma ha un tumore il diabete problemi cardiaci e quindi stiamo parlando di una persona che ha delle gravi patologie e quindi l'equilibrio della riorganizzazione sanitaria è proprio su questo quindi domani mi informerò rispetto al singolo caso di 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 questo cittadino che ha chiamato però in generale ho detto sia alla capalbo che alla direttrice dell'ausur quindi sia alla direzione dell'ospedale che alla direzione dell'ausur che io ogni 15 giorni voglio fare il punto voglio fare il punto perché a marzo siamo stati travolti nessuno di noi io per primo era pronto a quello che stava succedendo a quello che ci stava arrivando in faccia e ci avrebbe poi travolto da lì a poco adesso dobbiamo essere bravi a programmare dobbiamo avere la situazione sotto controllo quindi come sindaco almeno ogni 15 giorni farò il punto della situazione perché dobbiamo essere pronti a combattere il covid e non lasciare indietro gli altri quindi cercherò di fare la mia parte nell'interesse di questo cittadino in generale di tutti coloro che in questo momento soffrono e sono in una fase di grandi difficoltà sanitarie dopo che è stato chiuso lo svincolo per chi viene da case bruciate verso Pesaro ci sono molti furbetti che attraversano la strada per non fare la rotonda dell'autostrada ed è pericolosissimo poi le chiedono anche se il cimitero di Santa Maria delle Fabricie si farà oppure no sindaco si adesso sui controlli ma aumenteremo sicuramente i controlli questo meccanismo però voglio dire questo meccanismo del rotatore complessivamente funziona sicuramente ci sono dei sistemi delle rotatorie che vanno migliorate però abbiamo deciso di cominciare a rendere le definitive alcune quest'anno facciamo quella di Loreto gradualmente andremo avanti con le altre e in generale le sperimentazioni che abbiamo fatto funzionano funzionano quasi ovunque quindi noi continueremo in quella direzione e continueremo anche a fare i controlli giustamente hanno fatto la segnalazione il cimitero? ugualmente la programmazione va avanti va tutta avanti c'è una tendenza nuova che sta mettendo anche un po' a repentaglio la programmazione dei cimiteri perché l'impianto di cremazione è aumentato molto più del previsto c'è una tendenza in questo caso l'altro giorno qualcuno scherzava dice avete fatto prima fare prima dell'ospedale insieme a Trapesorefano avete fatto l'impianto di cremazione insieme però è stata al di là della battuta anche un po' macabra se volete però è stato un bel investimento un bel investimento perché tante persone adesso si rivolgono alla cremazione io penso che sia anche un segno di civiltà avere un impianto di questo tipo nel nostro territorio perché molti andavano fuori a Cesena andavano a San Benedetto a Perugia e quindi con grandi disagi e c'è una tendenza crescente credo che siamo arrivati almeno al 30% di persone che decidono di farsi cremare questo cambia anche un po' il meccanismo di programmazione dei cimiteri quindi sicuramente andremo avanti con tutti i cimiteri previsti però dobbiamo credo anche ripensare un po' la pianificazione dei cimiteri alla luce di questa tendenza perché se il 30% va in cremazione è evidente che dobbiamo riorganizzare i cimiteri magari alla luce dell'esigenza di tenere le urne con le ceneri di coloro che si fanno di coloro che appunto si fanno cremare quindi andremo avanti però c'è questa novità che con il covid è aumentata aumentata notevolmente con l'arrivo del covid è aumentata notevolmente Sindaco se lei ci dà la disponibilità andiamo avanti per qualche minuto perché abbiamo una marea di messaggi e anche una telefonata pronta per lei finché ci sopportano va bene benissimo sono la figlia dello scultore Gentiletti che ha ideato e forgiato le vele al porto nella rotatoria di Via Cecchi come segnalato dal signor Trebi l'opera completamente il buio quindi prego il signor Sindaco di trovare una soluzione sentiamo chi c'è il telefono buonasera pronto buonasera sono mi chiamo Giuliana Mancini e sono la nonna di una bimba che fa parte della squadra Torlo Schi di Michele Ravalli e c'è un grosso problema che a Pesaro non viene presa in considerazione la costruzione di una pista di patinaggio e questi bambini devono andarsi ad allenare in treno a Sano allo Sport Park oppure al circuito che c'è alla Paleotta come mai che non si fa qualcosa per incentivare questo sport che veramente è molto penalizzante per questi bambini poi è anche pericoloso in questo periodo dove prendere il treno andare fino a Frano poi un giorno vanno in palestra non si sa dove possono allenarsi perché non hanno un luogo dove poterlo fare la ringrazio molto se riuscirà a prendere in considerazione questa richiesta che naturalmente non è solo mia ma di tutti i genitori di questi bambini grazie guardi signora abbiamo un progetto di una pista ciclorotellistica dietro il Vitri Frigo Arena dietro il Palace Sport è qualche anno che ci proviamo a trovare i finanziamenti ci abbiamo provato l'anno scorso non ci siamo riusciti ci stiamo riprovando quest'anno speriamo e siamo fiduciosi di essere più fortunati è un impianto da circa un milione e mezzo quindi un impianto importante sia per coloro che si allenano con i pattini che per coloro che non hanno un posto dove allenarsi in bicicletta penso soprattutto ai ragazzini che non possono allenarsi a Pesaro perché è pericoloso andare in strada con la bicicletta e non hanno un posto dove allenarsi quindi a Pesaro in questi anni abbiamo davvero messo le mani a tutti gli impianti sportivi molti sono stati realizzati completati alcuni sono in fase di completamento questo è quello che manca quindi è la priorità per noi rispetto ai nuovi impianti da fare speriamo di soddisfarla il prima possibile speravo sinceramente prima perché pensavo di vincere l'anno scorso il bando periferie sport con questo progetto invece purtroppo non ce l'abbiamo fatta ma ci stiamo riprovando quest'anno spero tra qualche settimana di potere dare buone notizie ci dicono che in piazza Matteotti ci sono degli assembramenti continui poi c'è gente che non arriva a fine mese e li state portando via tutto quello che ha probabilmente riferendosi anche alla protesta di cui parlavamo prima sono anni che la sanità lascia indietro tutti bisogna che scende dal podio potrei essere sua madre le scrivo non provi a mettersi anche al posto di chi non riesce ad andare avanti certo che ci arrabbiamo perché Pesaro è diventata una schifezza cementata sporca disordinata e anche il signore che ha parlato prima ha ragione vogliamo rispondere sono tante allora proviamo che sulla sanità ci siano dei problemi evidenti anche perché le elezioni regionali sono state da questo punto di vista abbastanza chiare è una città sporca Pesaro no no dopo vedi queste sono le domande che mi fanno dire che ha ragione Marche Multiservizi no? cioè prima ho detto che Marche Multiservizi fa un buon servizio e in generale la città di Pesaro è una città pulita ma che io la voglio più pulita e quindi non mi accontento ogni volta che vedo le cicche le cartacce i rifiuti che non vengono raccolti nel momento giusto piuttosto che altri cassonetti che non vengono lavati io mi arrabbio esattamente come i cittadini però adesso dire che Pesaro è sporca fa schife eccetera vada da un'altra parte signora si renderà conto che si dovrà ricredere ecco si dovrà ricredere però queste sono le famose diciamo sono i punti di vista con le lenti della politica no? quando non perché la politica è una cosa bella perché ti appassiona quando però metti la lente della politica non vedi più la realtà quindi bisogna essere equilibrati ecco bisogna essere equilibrati Pesaro può essere una città deve essere una città ancora più pulita ma è complessivamente già una città pulita dire che Pesaro è sporca che è il Bronx che fa schifo troppo cemento invece? sicuramente sicuramente in passato abbiamo costruito troppo come si è costruito troppo in genere in Italia non a caso da quando io faccio il sindaco sono tornati a verde decine di ettari di previsioni di costruito che sono tornati verdi e agricole perché noi abbiamo un piano regolatore sovradimensionato piano regolatore che oggi non ha più senso tant'è che noi stiamo facendo tutto per azioni per favorire coloro che per non pagare le tasse sui terreni nei quali non costruiranno mai vogliono tornare ad agricolo e a verde dall'altra stiamo facendo un'operazione che favorisca la trasformazione del costruito perché quella è la sfida il bonus 110% sulla ristrutturazione edilizia va nella direzione giusta perché spinge l'edilizia verso la riqualificazione dell'esistente il bando delle periferie che ci sta permettendo di trasformare tutta l'area intorno a via dell'acquedotto va nella direzione della trasformazione del costruito e abbiamo bisogno di un piano regolatore però più flessibile perché oggi abbiamo un piano regolatore troppo rigido e se tu prevedi solo una destinazione su un edificio se quella destinazione perché cambia il mercato non come dire non è più non ha più mercato rischia di diventare un elemento di regrado della città e quindi stiamo cercando di flessibilizzare il nostro piano regolatore a partire dall'area industriale di via Toscana e di via Fermo nella quale oggi abbiamo metà dei cappalloni vuoti e quindi dobbiamo dare l'opportunità ai proprietari di poterla riconvertire in qualche cosa che abbia una logica dal punto di vista urbanistico e che abbia un mercato dal punto di vista immobiliare Sindaco le chiedo di essere davvero breve ci dicono la città della bicicletta siamo la città della bicicletta ma abbiamo delle strade con buche che sono anni che non vengono asfaltate poi ci chiedono anche aggiornamenti sul futuro dell'area San Domenico sicuramente le buche non mancano anzi invito tutti a scaricare l'app buca perché permette anche ai cittadini di segnalare le buche e di verificarne immediatamente appunto l'esito cioè se poi vengono coperte in che tempi vengono coperte è un servizio che diamo grazie alla Mobility Pro che ci cura la manutenzione delle strade in questi anni abbiamo fatto una marea di asfalti che non si facevano da tanti anni sicuramente continueremo sicuramente dobbiamo continuare anche nei prossimi anni però anche qui dire che Pesaro è una città piena di buche non è vero ecco ci sono le buche come ci sono tutte le città però dire che una città è piena di buche noi pensiamo alle ciclabili e ci sono le buche nelle strade è un'altra volta la lente della politica che pur di dar contro perché politicamente la si pensa diversamente deve dire che Pesaro è piena di buche Pesaro non è Roma Pesaro non è una città degradata Pesaro non è piena di buche Pesaro ha un po' di buche come tutte le altre città e dovremmo essere ancora più bravi del passato a coprire le buche e asfaltare le strade però anche qui equilibrio chiedo scusa a tutte quelle persone che stanno continuando a mandare messaggi ma dobbiamo chiudere perché tra poco andrà in onda il telegiornale di mezzasera Sindaco però vorrei chiudere questa puntata questa diretta con una immagine che è stata scattata pochi giorni fa quindi può darsi che ha un video ok abbiamo preparato il video sicuramente ci sono degli aggiornamenti perché l'albero è stato posizionato quindi in piazza queste sono le immagini che si riferiscono all'arrivo se non sbaglio giovedì scorso se non ricordo male però quest'anno come l'hai già annunciato il Natale sarà un po' ridimensionato beh abbiamo dobbiamo essere realisti quindi abbiamo annullato in tempo prima addirittura dei DTCM gli eventi legati al Natale ed è lo facciamo malincuore perché per noi il periodo prenatalizio era diventato negli anni uno dei periodi più attrattivi dal punto di vista turistico dal punto di vista anche dell'immagine della città prima abbiamo dovuto annullare Candela Candelara sapete quante migliaia di turisti porta da tutta Italia e poi abbiamo annullato gli eventi previsti in centro queste immagini dell'accensione una delle cose alle quali i pesaresi negli ultimi anni si sono affezionati non solo i pesaresi perché poi venivano tante persone anche da fuori una delle giornate alle quali erano più affezionate serate davvero giornate magiche quest'anno non potremo viverla così ci sarà ovviamente l'albero di Natale cercheremo di rendere la città comunque bella con le luminari con gli allestimenti eccetera però non possiamo avere i mercatini non possiamo avere la pista del ghiaccio non possiamo avere tutte quelle attività che rischiano di creare aggregazione sarà un Natale comunque bello un po' più sobrio rispetto al passato un po' sottotono rispetto al passato però è un Natale responsabile del resto dobbiamo abituarci a vivere un Natale responsabile così come già dico adesso scordiamoci quest'anno i tomboloni scordiamoci i cenoni infiniti cerchiamo di organizzare il Natale cercando di stare con le persone le quali vogliamo bene con i cari con gli amici più stretti evitiamo sembramenti evitiamo luoghi di confusione perché è un Natale che dovremo vivere così poi magari arriveranno notizie ulteriormente positive sul vaccino prima di Natale saremo tutti più contenti però mettiamoci in questa lunghezza d'onda perché credo che alla fine è meglio avere una sorpresa positiva che avere un'altra ricaduta negativa già siamo dentro una ricaduta che come ho detto all'inizio è peggio della caduta quindi proviamo a metterci mentalmente in testa che dovremo vivere a fisarmonica fino alla primavera se poi invece il vaccino verrà diffuso prima della primavera come dire avremo anticipato la festa della liberazione però mettiamoci in testa realisticamente di vivere con graduali chiusure graduali aperture fino alla primavera questo è un autunno inverno così se poi ripeto arriveranno notizie positive in anticipo saremo ancora più contenti sarà ancora più bello per tutti grazie sindaco Matteo Ricci per essere stato di nuovo con noi grazie a voi grazie anche a tutti i nostri telespettatori per averci seguito l'informazione torna adesso appunto con il telegiornale di mezzasera e poi domani mattina con la nostra rassegna stampa condotta dal direttore Marco Ferri alle ore 7 arrivederci